e siamo nel dopo gara del Palacarucci un derby che si conclude in parità Pariselli per quanto riguarda il Real Terracina un LIA veramente sempre inimportante nell'autonomia dello sporting due gol oggi hai aperto hai chiuso hai fatto il bello e cattivo tempo di questa di questa gara per te perché sono il capitano è molto importante per me giocare far vincere i compagni dare tutto me stesso come faccio sempre anche nella vita la partita è stata una grande partita perché giocata con con Antonio e tutti i suoi compagni che sono oltre che oltre che ci hanno sfidato in campo sono grandi grandi amici al di fuori del campo quindi è stata una bella partita l'unica cosa che io noto sempre un po' la pecca forse dell'albito anche se sbaglio io perché le regole non le so però comunque la partita secondo me è andata molto bene il risultato è giusto perché come squadre siamo molto equivalenti abbiamo la stessa forza quindi è giusto così andiamo invece da Pariselli perché il cammino vostro è molto più buono molto più bello e vi sta portando vi sta proiettando verso quel quinto posto utile per disputare questa benedetta Coppa Lazio ci continua ad accredere ottimo il il pareggio forse magari un po' rammaricati però bisogna anche accettare il verdetto dal campo sì rammaricati perché siamo stati raggiunti nei minuti finali volevamo dare una continuità a quelle vittorie che c'erano state prima di questa partita però abbiamo trovato una squadra per il derby sempre derby ecco pronto a proprio questo derby molto sentito proprio qui a Terracina sono due anni sempre una folta e cornice del pubblico siete da una parte che dall'altra vengono sostenuti questi colori sì sì Terracina c'è anche un bel pubblico come avete visto noi comunque c'è gente che seguite noi che loro e noi in campo cerchiamo di dargli quello che vogliono loro su dagli spalti cerchiamo Allora andiamo invece eh con una battuta prima di congetarci Italia si ferma comunque se non altro in momento negativo cinque sconfitte consecutive questo è un pareggio che vi dà un po' di ossigeno però purtroppo rallenta questa rincorsa a questo quinto posto purtroppo sì abbiamo fatto un giro di ritorno molto cioè abbastanza negativo rispetto al giro d'andata che eravamo andati molto bene troppo non abbiamo esperienza di di questo sport perché veniamo da chi da calcio chi non ha giocato mai io personalmente vengo dal basket ho giocato quindici anni a basket l'anno scorso ero mister quindi non non è che questa esperienza però con il cuore con la voglia soprattutto con l'amicizia che si è creata nel nostro gruppo perché siamo un gruppo veramente di amici e stiamo cercando di fare il meglio possibile comunque siamo contenti nonostante tutto bene grazie allora ringraziamo lì a lo concediamo lo mandiamo se posso vorrei fare solo un gesto vorrei dare la mano antonio alla faccia di tutte le persone che parlano sempre male dicono che noi ci abbiamo noi abbiamo grande stima di loro come loro hanno stima di noi perché siamo tanto amici tanto tanto amici quindi grazie a lì a lo concediamo bellissimo questo gesto da parte sua da parte anche di tutta la di tutta la sua squadra invece con con pariselli lo concediamo rapidamente al mai è un pareggio ma vi apprestate proprio a vivere questo finale che vi accompagna facendo i dovuti scongiuri anche per voi a questi copalazzo ci tenevamo oggi a vincere a fare bene erano importanti tre punti come ho detto prima siamo rammaricati che siamo arrivati al pareggio alla fine ma ci sta nel calcio anche questo e va bene così la prossima sarà un'altra battaglia a minturno dove ci giocheremo il quinto posto grazie a tutti grazie a tutti